EZAP EVERYBODY PORCO DIO Questo costa 3 miliardi di euro Quello viola 1 euro 1 euro Caricamento Ah ecco 3,2,1 Hai vinto Ah no iniziamo Allora Oggi gioca Pietro Perfetto Ci stiamo schiettando Ecco Non sono mai fatta salire Ah sì Perfetto 200 persone abbiamo salvato Finalmente si moltiplicano 300 300 Musichetta figlia Ecco Salire Sei bello Poi c'hanno tutto lo stesso castillo Che è successo Tutto lo stesso sarto No Mi sta un altro pezzo No Che cosa è successo qua un incidente Tu come hai fatto? Ora lo voglio sapere C'è una nave Posso capire la nave nelle vicinanze La posso capire quelli Tu Queste cose da dove vengono? Non lo so Poi stanno in mezzo a lunga Che servono quelle basse Stanno in mezzo a lunga Che servono quelle basse Stanno in mezzo a lunga L'acqua Non si muove Quanto faccio servono? È vero L'acqua non si muove È solo quel che si muove Tu la muovi l'acqua Perché no? Perché ci sta sul caso Che poi da dove salgono? Non c'è nessun buco sotto l'elicottero Ma questa cosa È sospeso nell'aria Mamma mia 5600 persone salvate Mamma mia Perché non distruggi un'elicottero? Perché non si può fare È indistruttibile Non lo sappiamo Il dopato Non è cinese questo È giapponese questo elicottero Attenzione Ok Abbiamo perso Sè 5800 persone Sei sulla buona strada Ma non hai completato la missione Ritenta Tutto bastardo Bene Eccoci ora su La parte degli aerei Di Flight Simulator Bene Ora iniziamo Ok Giocherò sempre io Pietro Intanto qui c'è un ragazzo Che fa cose Ehm Belli aerei di merda Scegliamo questo Vabbè 3 miliardi costa questo Tanto caghiamo non so che cosa dà la culo Probabilmente marijuana Ok dal colore sembra quella Ok Subito Dopatissimi Velocissimi Nel deserto del sal Nella valle del Nuka Ah si rimbalziamo Proviamo a schiantarci Non succede niente Stato Ecco vai Stato Stato Ecco vai Stato Alla fine mi aspetta Disintegra niente Quanto è realistico questo gioco Incredibile Continua a cagare marijuana intanto Pum Pum Rimbalziamo Per tutti i drogati di questo deserto Abbiamo fatto una Una Che grano ha cercato Vabbè Continuiamo a cagare la marijuana con il paracaduto Si Ma come siamo bravi Ok, ora siamo sulla terza parte di Flight Simulator Con quella in cui andremo nell'inferno di Satana Con le fiamme Ok, possiamo iniziare Sì, bella Ok, vediamo Ah, questo è quello diavolo Cagare Eh, forse si distingue tra le fiamme Bella merda Siamo quello... Questo figo, sì Che si distingue No, non siamo gay che siamo con le fucsie Ok, possiamo iniziare Ah, ma non stiamo nell'inferno Ah, vabbè Vabbè, iniziamo Ok, grafica pazzesca, vedo Questo aereo è il superpotere di... Ok Di sparare acqua dal culo No, dal pene al massimo Spera, vediamo Non l'ho vinto da dove è sparato Ah, no, dal... No, no, dal pene Dal pene Ok, stiamo spegnendo le fiamme di Satana Si è incazzata Tutti i vostri peccati Poi qualcuno che ha mandato fa giù la scorreggiata E che schifo Che poi gli alberi Sembra... Sono delle forme geometriche Sembra... Un piangolo Sembrano Passiamo attraverso le fiamme Precisione Precisione assoluta Finita l'acqua Prima volta che finiamo le cose Sì, andiamo nell'acqua Mamma mia La logica Non andiamo sotto Perché noi siamo... Cosa sta succedendo? Riusciamo a camminare sull'acqua Attenzione Ecco, perfetto 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 Perfetto